E' tempo di 7.30, al via la corsa la dichiarazione dei reggiti per l'anno 2022, tra dubbi, documenti da conservare e recuperare e un numero da record di detrazioni presenti. Siete sicuri di conoscerle tutte? Anche quelle a loro debutto? Se la risposta è no, restate in ascolto. In primis, la questione è assegno unico universale, entrato in vigore il 1 marzo 2022, che ha rivoluzionato, assorbendole, molte detrazioni per figli a carico. A partire da questa data, infatti, resta in vigore solo la detrazione di 950 euro per ciascun figlio, purché di età pari o superiore a 21 anni. E' sempre in ambito figli, ma quelli di età compresa tra 20 e 31 anni, è da segnalare la detrazione del 20% sull'affitto di un appartamento o di una stanza all'interno di un appartamento, fino a un massimo di 2000 euro, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Per la prima volta quest'anno compare anche la detrazione, del 75% in 5 anni, per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, in edifici già esistenti e fino a un tetto di 50.000 euro. Se allora lo zoccolo duro delle detrazioni sono quelle per spese medico-sanitarie e veterinarie, quelle da lavoro dipendente e per pensionati, quelle relative a mutui, trasporti, ristrutturazioni e assicurazioni, non dimenticate che quest'anno è stato anche introdotto un credito d'imposta, al 97,5%, per le spese sostenute per lo svolgimento della cosiddetta attività fisica adattata, cioè esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche. C'è ancora qualche detrazione che vi sfugge? C'è ancora qualche detrazione che vi sfugge?